Masci, la maggioranza al Comune di Pescara dice che i soldi risparmiati per la riqualificazione della Riviera Sud verranno utilizzati per completare il piano antiallagamenti. Voi cosa dite? Noi diciamo che purtroppo questa maggioranza fa il gioco delle tre carte a danno dei cittadini pescaresi perché il completamento del piano antiallagamento era già previsto con fondi regionali, un milione di euro assegnato dalla Giunta Chiodi che D'Alfonso appena insediato ha eliminato. Adesso il milione di euro si recupera con un atto illegittimo che è la revoca della riqualificazione della Riviera Sud e ovviamente non ci sarà più la riqualificazione della Riviera Sud. Il primo tratto era già stato completato ed è sotto gli occhi di tutti, la Riviera Sud si è trasformata in meglio e il secondo tratto avrebbe comportato il completamento di quell'intervento. Quindi un abbellimento ulteriore della Riviera Sud che da sempre era stata trascurata oggi quel lavoro rimane monco perché quella riqualificazione non si farà più e i soldi, un milione di euro che loro sostengono di dover utilizzare per il piano antiallagamento era già previsto quel milione di euro con un finanziamento regionale. Quindi si potevano fare le due cose, era previsto che si facessero le due cose il piano antiallagamento con un milione di euro regionali e la riqualificazione della Riviera Sud con fondi terna. Quindi avremmo ottenuto due interventi, invece così Pescara perde un milione di euro e perde il finanziamento della Riviera Sud. Voi confermate il ricorso alla Corte dei Conti per quanto riguarda l'azione che poi farà l'azienda che non potrà completare i lavori di riqualificazione? Allora il punto è, la riqualificazione della Riviera Sud è un piano che parte dal 2011 che ha avuto almeno 10 passaggi amministrativi dal piano triennale delle opere pubbliche al bilancio, al progetto preliminare definitivo, esecutivo, al finanziamento, al bando di gara, all'appalto, alla giudicazione provvisoria e alla giudicazione definitiva. Quindi pensate un po' quanti passaggi amministrativi sono stati cancellati in un attimo con una delibera illegittima. Questa delibera illegittima purtroppo avrà un costo per la cittadinanza abruzzese perché l'impresa che si è giudicata il lavoro ovviamente farà causa al Comune per ottenere il risarcimento dei danni ma questo risarcimento a detta nostra non potrà essere pagato dai cittadini pescaresi ma dovrà essere pagato dagli amministratori che scientemente hanno messo in atto un procedimento illegittimo per una ritorsione politica inaccettabile.